Cari amici di GameExperience.it, io sono Luca Porro e vi do il bentrovato su questo canale YouTube. Oggi non sono qua però per raccontarvi né di un'anteprima, né di un provato, né di una recensione, bensì sono qua a parlarvi di una storia molto curiosa del mondo dei videogiochi. Recentemente, a inizio mese, è scomparso Akira Toriyama e non solo è stato un amente, un artista davvero importante nel suo ambito, che è quello dei fumetti, essendo lui un mangaka, bensì anche in tutta una serie di parti collaterali del mondo dell'intrattenimento, ovviamente in riferimento a quello dei fumetti. Una di queste parti è sicuramente quello dei videogiochi, perché lui è stato un character designer incredibile, non solo nel mondo dei fumetti, ovviamente, ma anche nel mondo dei videogiochi, Dragon Quest e per esempio Sandland, che deve uscire il mese prossimo, soprattutto però Chrono Trigger. E proprio di questo gioco vorremmo oggi raccontarvi la storia. Siamo nell'ottubre del 1992, quando su un volo diretto negli Stati Uniti, Ironobu Sakaguchi, produttore e creatore della serie Final Fantasy, Yuji Ori, scrittore, game designer e creatore della serie Dragon Quest, e Akira Toriyama, character designer di Dragon Quest e creatore della serie manga Dragon Ball, arrivano a concepire un'idea. Creiamo qualcosa che nessuno ha mai fatto prima. Ecco, Kazuhiko Torishima, editor di Toriyama, dirà che quel concetto venne poi realizzato nella fusione tra Dragon Quest e Final Fantasy, ovvero Chrono Trigger. Dopo aver trascorso più di un anno a considerare le difficoltà dello sviluppo di un nuovo gioco, i tre ricevettero una chiamata da Kazuhiko Aoki, che si offrì di produrre il titolo. I quattro dunque si incontrarono, passarono quattro giorni a fare brainstorming, e Square convocò 50-60 sviluppatori, tra cui lo sceneggiatore Masato Kato, per essere lo story planner del videogioco. Lo sviluppo dunque ebbe inizio all'inizio del 1993. Square intendeva concedere in licenza l'opera nell'ambito del franchise Mana, e gli dire dunque il titolo provvisorio di Maru Island. Secondo Hiromichi Tanaka, il futuro produttore di Chrono Trigger, Secret of Mana, che originariamente doveva essere Final Fantasy IV, ho chiamato Chrono Trigger durante lo sviluppo, prima di essere chiamato Seiken Densetsu II, appunto Secret of Mana. E' proprio qui dunque che Chrono Trigger sostituirà il nome provvisorio Maru Island. Masato Kato ha successivamente modificato e completato la bozza della narrativa, scrivendo la maggior parte della storia del gioco, compresi tutti gli eventi dell'era del 12.000 AC. Si è preoccupato di evitare quella che ha descritto come una lunga serie di commissioni, fai questo, prendi questo, sconfiggi questi mostri, pianta questa bandiera. E' grazie a Kato e gli altri sviluppatori che tenero una serie di riunioni per garantire questa continuità di narrativa. A questi riunioni di solito partecipavano circa 30 persone. E' proprio a Kato che si deve il sistema dei finali multipli, perché non si poteva ramificare la storia in diversi percorsi. Yoshinori Kitase e Takashi Tokita scrissero quindi diverse sottotrame. Idearono anche un sistema di Active Time Event Logic, in cui è possibile spostare il personaggio durante le scene, anche quando un personaggio non giocante sta parlando con te e con i giocatori che parlano con diverse persone e dirigono la conversazione in direzioni diverse, permettendo dunque ad ogni scena di avere molte permutazioni. Il sistema di battaglia che ospitava i combattimenti sulla mappa, senza passare a un nuovo campo di battaglia speciale, come succedeva nella maggior parte dei precedenti giochi square, si deve a Katsuhisa Iguchi. Quest'ultimo notò un'estrema difficoltà nel caricare correttamente le battaglie senza rallentamenti, o attraverso l'utilizzo di una breve schermata di caricamento nera. L'uso di sprite animati dei mostri consumava infatti molta più memoria rispetto ai precedenti Final Fantasy, che invece utilizzavano una grafica statica dei nemici. L'apporto di Toriyama è stato estremamente importante, non solo per la questione dei viaggi nel tempo, elemento a cui Toriyama era particolarmente legato, ricordiamo infatti che poco prima di Crono Trigger, il mangaka giapponese inserì Trunks all'interno di Dragon Ball. Non solo questo però, Ironobu Sakaguchi infatti ha paragonato lo sviluppo di Crono Trigger a un gioco con l'universo di Toriyama, citando l'inclusione all'interno del titolo di diverse sequenze umanistiche caratteristiche di Toriyama, ma che sarebbero state impossibili da inserire all'interno di un qualunque altro Final Fantasy. Quello che però è estremamente importante è che molti si dimenticano di Crono Trigger e che proprio grazie all'elemento dei viaggi nel tempo e alla cosiddetta fine del tempo, Crono Trigger è stato il primo videogioco a inventare il New Game Plus. La fine del tempo è infatti un modo per aiutare i giocatori con i suggerimenti, temendo che potessero rimanere bloccati e che dunque dovevano avere un sistema per superare l'unpass senza dover consultare una guida. O almeno questa era l'idea originale degli sviluppatori. Quello che successe è che i tester del gioco si erano già lamentati in precedenza della difficoltà di Crono Trigger. Questo venne spiegato in un'intervista da Ori e quello che viene detto è testuali parole perché sappiamo troppo. Gli sviluppatori pensano che il gioco sia giusto, che siano troppo morbidi, pensano alla loro esperienza personale. Gli enigmi erano gli stessi e molti giocatori non hanno capito cose che pensavamo avrebbero capito facilmente. È proprio lì dunque che nacque dai beta tester e dagli sviluppatori, dal dream team di Square, l'insolito desiderio di giocare una seconda volta oppure di viaggiare di nuovo nel tempo. E quindi nacque appunto il New Game Plus che venne descritto testualmente in questa maniera. Ogni volta che abbiamo potuto abbiamo cercato di fare in modo che un leggero cambiamento nel vostro comportamento causasse sottili differenze nelle reazioni delle persone, anche nei più piccoli dettagli. Penso che il secondo playthrough avrà un interesse del tutto nuovo. Queste erano le frasi di Sakaguchi riguardante appunto la funzione New Game Plus di Chrono Trigger. Ed eccoci qua, giunti alla fine di questo piccolo approfondimento su Chrono Trigger che speriamo vi abbia strappato un sorriso, vi abbia incuriosito. Non volevamo cadere nel solito pianisteo, pensiamo che questo sia un buon modo per ricordare un grandissimo artista che ha sicuramente cambiato l'intera scena del mondo dell'intrattenimento.